Sesso, ma anche soldi e generi alimentari, come la cassetta di pomodori consegnata da un'azienda conserviera di Sant'Antonio Abate per evitare all'imprenditore la notifica di una richiesta di rinvio a giudizio. Così, l'ufficiale giudiziario del Tribunale di Nocera Inferiore, finito mercoledì ai domiciliari, si faceva corrompere per evitare sfratti, ritardare notifiche e rivelare atti coperti da segreto, come ad esempio far sapere quando sarebbe arrivata una notifica in modo da permettere al destinatario di non farsi trovare. In un caso avrebbe anche falsato un verbale su un pignoramento. Il 65enne, originario di Rocca Piemonte, da mercoledì è rinchiuso nella sua abitazione, anche se la procura, che aveva chiesto per lui l'arresto in carcere, ha fatto appello al riesame. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia di una delle due donne al centro dell'accusa all'indagato di concussione sessuale. Entrambe sono state costrette a subire un rapporto sessuale completo per ritardare l'ordinanza di sfratto che sarebbe stata loro comunicata di lì a breve. Più o meno giovani, in condizioni di disagio socio-economico, con il timore di perdere la casa e la minaccia messa in atto dall'uomo di perdere anche l'affido dei figli, hanno ceduto alla proposta. La donna che ha dato il là all'inchiesta è stata raggiunta dall'ufficiale giudiziario in casa tre giorni prima dello sfratto. L'indagato le avrebbe fatto sapere di aver avuto un regalo dalla controparte per accelerare la pratica e poi le avrebbe offerto una proroga di 30 giorni, il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione per sé e i suoi figli, di cui due minori, in cambio di sesso. Nell'inchiesta sono 15 in tutti gli indagati, tra cui 4 avvocati civilisti i cui studi sono stati perquisiti, imprenditori e cittadini privati che avrebbero partecipato agli accordi corruttivi. L'indagato avrebbe ottenuto dai 150 ai 700 euro per evitare pignoramenti, esecuzioni forzate e notifiche inquinando i processi civili e penali.